Caffè Bitcoin oggi le news delle cripto in pillole benvenuto e benvenuta io sono Ivan e oggi è lunedì 13 dicembre andiamo a vedere che cosa è successo nel mercato in queste ultime in questo weekend alcuni dati che stiamo tenendo controllato tutte le settimane un paio di notizie e a che cosa dobbiamo prestare attenzione in particolar modo durante la settimana che abbiamo di fronte iniziamo subito partiamo al volo ti ringrazio buon caffè buon tè qualsiasi cosa tu stia bevendo e via partiamo partiamo dal mercato in generale voglio fare subito una piccola parentesi prima di andare avanti l'altra sabato nella live ci siamo resi conto di quante al coin di quante coin o token sono nati in questi ultimi mesi e stamattina mi ha chiamato l'attenzione che abbiamo passato le 15.000 criptovalute lo vedete in alto a sinistra il nostro consiglio è quello di stare veramente attenti a dove andiamo a investire i nostri soldi in questa fase è facile farsi prendere dalla voglia di fare tutto subito e ottenere tutto subito e perdersi opportunità perché abbiamo poi i capitali intrappolati in progetti che magari non hanno nessuno scopo vero no quindi questa aperta e chiusa parentesi prima di incominciare perché è capitato direttamente a noi nel 2017 quindi cerchiamo di divulgare questa cosa e si sa che i più 100% sono belli per tutti però poi possiamo perderci il resto perché siamo appunto intrappolati abbiamo visto il bitcoin andare sopra i 50.000 in questo weekend l'abbiamo visto ritracciarne alla notte è andato giustamente a chiudere il semi future gap lo vediamo noi lo teniamo sempre controllato e anche questa volta è andato esattamente a chiuderlo e poi vediamo quello che succederà vediamo ethereum che negli ultimi tre quattro giorni è sempre per forma sempre peggio di bitcoin la maggior parte delle coin sono in rosso nelle ultime 24 ore alcune nei tipo near protocol nella settimana sono ancora positive quindi tra tutte le al coin come sempre per esempio ha chiuso i sette giorni o negli ultimi sette giorni è in guadagno del 3 per cento quasi c'è gala c'è tezzo se ne sono diverse che hanno guadagnato nonostante questa fase del mercato del bitcoin incominciamo sempre dalla defi quindi vediamo che in questo momento anche la defi sta soffrendo un pochino abbiamo toccato un massimo di 273 280 75 bilioni locati in questo momento siamo a 247 quasi 250 bilioni locati e notiamo che anche questa settimana terra rispetto alle altre è riuscita più o meno a mantenersi intorno ai 12.5 dopo aver raggiunto i 15 milioni comunque cambiando qui ethereum binance terra possiamo vedere effettivamente dove si stanno spostando appunto i soldi nel defi altro indice che controlliamo ogni settimana il fear and greed siamo arrivati fino a 16 è bastato passare da 48 mila a 50 quasi 51 nel weekend per riportarci in zona 28 io lo ripeto da tanto tempo quanto il mercato cambia e con che velocità comunque rimaniamo in una zona di fear ultrasound of money gli ethereum bruciati continuano a crescere continuano aumentare 1.2 quasi milioni di ethereum bruciati se andiamo avanti così sono 3.3 quelli che brucieremo all'anno la growth quindi la crescita degli ethereum in circolazione sarà dell'1,8 per cento oggi andiamo velocissimi nelle notizie due metriche chiave di trading di bitcoin suggeriscono che il prezzo di bt sia toccato il fondo questa è una notizia di dieci ore fa del coin telegraph il prezzo di bitcoin deve ancora recuperare ma lo ha fatto nel weekend il livello di 50.000 ma le azioni del market maker delle opzioni e dei trader di margine su bitfinex suggeriscono che la correzione più recente è terminata ovviamente questa rimane un'opinione di chi scrive poi quest'articolo ok quindi prendetela sempre con le pinze bitcoin ha lottato per sostenere il supporto di 47.500 dollari super importante abbiamo visto diverse volte dal crore il 4 novembre un movimento che ha spazzato via oltre 840 milioni di dollari in contratti a lungo termine con leva la mossa ribasso arrivata dopo l'emergere della variante dell'omicron coronavirus e i dati recenti che mostrano l'inflazione negli stati uniti che ha raggiunto il massimo degli oltre da oltre 40 anni questo è un po il riassunto di quello che è successo in queste ultime settimane mentre i nuovi arrivati potrebbero essere stati spaventati dalla correzione dei prezzi del 26 per cento nell'ultimo mese balene investitori accaniti come microstrategy e tanti altri che abbiamo visto abbiamo letto nelle diverse puntate appunto in questo ultimo mese hanno continuato ad aggiungere le loro posizioni 9 dicembre per esempio microstrategy ha annunciato di aver acquistato ulteriori 1434 bitcoin portando la propria partecipazione sta diventando veramente grande microstrategy a 122474 btc secondo alcuni analisti la motivazione alla base della debolezza del bitcoin era la paura del contagio anche di evergrande quindi qui ritorniamo al discorso macro che in questo momento pesa parecchio sul bitcoin ecco perché poi vogliamo vedere queste questi tre dati e queste tre appuntamenti ai quali dobbiamo stare attenti questa settimana anche la scadenza delle opzioni da 1,1 miliardi del 10 dicembre avrebbe potuto svolgere un ruolo importante perché gli orsi hanno intascato un profitto di 300 milioni di dollari i trader di margine sono ancora estremamente rialzisti è un grafico è un articolo interessante leggetevelo tutto non stiamo a leggerlo oggi comunque è un articolo che ci dà una delle diverse visioni che possiamo avere in questo momento del mercato e contrastante rispetto a quello che abbiamo visto per bitcoin questo questo articolo dice tre motivi per cui il prezzo di ethereum potrebbe scendere sotto i 3k entro la fine del 2021 stiamo parlando di 1000 dollari di differenza quindi un 30 per cento rispetto al prezzo attuale quindi se prendi sempre con le pinze questa valutazione l'impostazione ribassista appare in mezzo alla crescente divergenza tra il prezzo e lo slancio ovviamente avuto da ethereum il token attivo di ethereum ha raggiunto massimo storico intorno a 4867 all'inizio di novembre per poi crollare di quasi un 20 per cento in un mese a causa un po' dell'andamento del mercato in generale e ora poiché il prezzo di ethereum detiene questi 4000 dollari che abbiamo appena detto come livello di supporto chiave stanno emergendo rischi ulteriori di vendite sotto forma di molteplici molteplici indicatori e tecnici fondamentali innanzitutto il primo motivo per il quale secondo questo articolo ethereum potrebbe essere pronto a una discesa più importante è sembra essere uscito da questo cuneo crescente che poi guardiamo anche nel nostro grafico un modello di inversione ribassista che emerge quando il prezzo tende a rialzo all'interno di un intervallo definito da due linee di tendenza ascendenti ma convergenti che poi arrivano a un punto dove il prezzo deve decidere se andare verso l'alto o verso il basso in poche parole quando il prezzo di ethereum si avvicina al punto apice del wedge rischia di rompersi al di sotto della linea di tendenza inferiore del modello una mossa che molti grafici tecnici vedono come un segnale per ulteriore perdite future di conseguenza l'obiettivo ribasso sarebbe in questo caso di 2800 dollari che è vicino anche alla sua media mobile esponenziale 50 settimane una divergenza ribassista l'autolook ribassista di ethereum appare nonostante la sua capacità di supportare le massicce pressioni di vendita avvertite altrove nel mercato delle criptovalute nelle ultime settimane questo lo vediamo il prezzo va verso l'alto in questo caso è un grafico settimanale abbiamo l'inizio di una divergenza appunto nel settimanale e poi la terza notizia che potrebbe pesare sui mercati e quella che vogliamo trattare poi è altri segnali negativi per ethereum e arrivano dalla prima riunione politica di due giorni della federal reserve a partire dal 14 dicembre quando la banca centrale degli stati uniti discuterà quanto velocemente potrebbe essere necessario per ridurre il suo programma di acquisto di asset questa è una notizia che potrebbe influire su tutti i mercati e quindi da prestare attenzione anche questo è un articolo leggetevelo tutto interessante è un'opinione da tenere sempre in considerazione e oggi vediamo anche questa opinione perché resta poi di un'opinione apparsa sul coin desk dove perché bitcoin sta calando se si tratta di una copertura sull'inflazione ce lo siamo chiesti anche noi lo sappiamo tanti ritengono che il bitcoin può essere utilizzato come copertura dell'inflazione questo articolo è un articolo interessante del 10 di dicembre ovviamente anche questa è un'opinione magari voi sotto commenterete ma no ma che cosa stanno scrivendo in questo articolo è un articolo prendiamolo in considerazione leggiamo il bello è sempre essere aperti a qualsiasi tipo di possibilità questo articolo che non vi sto a leggere perché è veramente interessante e lungo spiega alla fine come tanti ritengono che il bitcoin possa essere utilizzato l'inflazione e invece secondo questo articolo il bitcoin non è ancora pronto non dice che non lo è ma dice che in questo momento non è ancora pronto per una serie di motivi ma uno dei motivi principali per esempio è bitcoin non è ancora pronto per essere un usato come edge contro l'inflazione perché attualmente i prezzi del bitcoin sono instabili per una serie di motivi che non hanno un legame diretto con l'inflazione e se i recenti movimenti dei prezzi sono indicativi quelle forze rimangono considerevolmente più potenti della narrativa dell'oro digitale ovviamente leggetelo è un articolo interessante che ci fa vedere le cose in un altro modo e invece sì questa è una cosa assolutamente una pietra miliare come dice sempre il coin desk bitcoin tocca una nuova pietra miliare con il 90% della fornitura totale sapete che i bitcoin sono 21 milioni il 90% di questi bitcoin sono già stati il resto il 10% che ci porterà alla totalità dei bitcoin circolanti necessiterà sino circa febbraio del 1140 per essere completata quindi da qui in avanti saranno sempre meno i bitcoin che saranno appunto nuovi e quindi in circolazione il 90% di tutti i bitcoin è stato estratto a partire dal lunedì mattina secondo i dati del tracker brocello c'è in punto com l'impresa significa che 18,89 milioni di bitcoin con un massimo di 21 ora sono sul mercato aperto il raggiungimento del traguardo è richiesto quasi 12 anni da quando i primi bitcoin sono stati estratti nel 9 gennaio 2009 tuttavia la fornitura rimanente non dovrebbe essere estratta sino a febbraio del 2140 in base alle stime delle attività dirette dei programmi di dimezzamento del bitcoin anche questo interessante grande quindi manca solamente parliamo sempre di crisi di liquidità pochi bitcoin sugli exchange il 90% è già stato prodotto ne manca solo un 10% e quindi sarà sempre più scarso da qui in avanti ora che cosa vediamo vediamo esattamente quali sono le date che dobbiamo prestare attenzione questa settimana questa settimana dobbiamo prestare attenzione mercoledì alle ore 20 c'è appunto la riunione della federal reserve dove decideranno tassi di interesse ma soprattutto è la press conference che viene mezz'ora dopo dopo la decisione delle rate di tutto quanto c'è la press conference è quella che viene vista e osservata dal mercato da tutti i mercati e ovviamente anche dal mercato delle cripto quindi attenzione il mercoledì 15 il giovedì 16 abbiamo dati importanti dall'australia ma anche dati importanti quindi la decisione delle rate di interesse negli negli uk quindi in inghilterra e anche in europa quindi 14 15 16 sono giorni da stare da prestare attenzione questi dati influiscono direttamente sui mercati e sul dollaro e ovviamente di riflesso anche sulle cripto ma adesso andiamo a vedere qual è lo stato momentaneo del bitcoin e ovviamente di tutti gli indicatori che stiamo tenendo sotto osservazione partiamo dai derivati in questo momento vediamo che il funding è praticamente leggermente positivo quasi ovunque tranne su bitmex e su kraken in questo momento quindi leggermente positivo lo vediamo esattamente qua siamo già con un funding positivo l'open interest rimane laterale in questi giorni un po come il prezzo in questo momento ci sono il 50,22 per cento di long e il 49,78 per cento di short speculativi e vediamo anche dove ci troviamo sul grande sulla lunga gettata del bitcoin siamo esattamente in al punto basso di questa linea gialla che viene chiamata od ok che va tra i 45.238 e 62 216 quindi siamo esattamente in questa zona andiamo a vedere velocissimo il prezzo del bitcoin come ha chiuso la settimana è riuscita a chiudere in positivo come ci eravamo augurati sono sbucati bulls nella giornata di domenica hanno spinto il prezzo sino al di sopra di questo supporto benissimo direi io siamo ancora tra la media mobile 21 settimane e la media mobile 50 settimane oggi siamo partiti leggermente a ribasso possibilità che restiamo dentro qui tra le due medie mobili nelle prossime settimane yes stiamo a vedere come si sviluppa però c'è questo tipo di possibilità al di sotto della 50 campanellone d'allarme non siamo mai andati sotto e rimasti sotto la 50 in un bull market quindi attenzione a non perdere questa 50 moving average settimanale vediamolo nel giornaliero nel giornaliero ha avuto questo rimbalzo da questa brutta candela di venerdì ha avuto questo rimbalzo sabato domenica siamo andati a toccare il questo massimo che avevamo fatto il 7 di dicembre ma la chiusura della giornata di ieri è stata al di sotto di questo massimo quindi anche nel piccolo momento nel breve trend abbiamo settato un altro alto più basso e vediamo il termine settimanale questo è un po il triangolo che stavamo vedendo prima nella notizia la rottura non è un buon segnale stiamo a vedere come reagisce continua a rimanere al di sopra dei 44.000 è ritornato al di sopra i 4.000 è un supporto già testato una due tre quattro cinque sei volte e lo sapete bene quando i supporti più volte vengono testati un po come le resistenze più deboli diventano la perdita di questo supporto porterebbe ethereum direttamente in questa zona intorno ai 3.400 3.500 dollari anche nel giornaliero ha perso ha cercato di recuperare questa questo ennesimo supporto che era importante non ce l'abbiamo fatta siamo esattamente fra supporto e resistenza fra i 3.900 e 4.200 perdita e chiusura giornaliera al di sotto di questo supporto ripeto apre le porte a intorno ai 3.500 la dominance che sta rimbalzando per la seconda volta per la terza volta in realtà partendo da indietro però continua a rimbalzare ogni rimbalzo che fa è sempre più debole vedete che c'è questa linea trend line discendente potrebbe arrivare fino a 45 46 lo stiamo a vedere tutti insieme rottura di questo lo diciamo sempre aprirebbe un alco in season incredibilmente gigante quindi teniamo la controllata sempre e voglio chiudere con insieme futures gap lo trattiamo sempre nella nostra newsletter perché lo teniamo controllato a proposito se non sei registrato registrata alla nostra incredibile newsletter che esce ogni lunedì puoi farlo direttamente da qua sotto stiamo a vedere teoricamente è chiuso io avevo un livello diverso non so se è un errore un bug in questo momento di trading view avevo il semi futures a 48.400 non so perché poi stamattina lo vedo a più giù mi dà la chiusura a 47 890 vediamo se è un errore o era un errore quello che vedevo in precedenza però vedete esattamente che cosa è andato a fare il prezzo il prezzo è riaperto qui a 52.000 50 al di sopra dei 50.000 dove abbiamo chiuso ieri è andato esattamente con questa candela a chiudere questo gap che io l'avevo qui in questo momento sta ripartendo i gap non sono obbligatoriamente devono non obbligatoriamente devono essere chiusi non c'è nessuna relazione però spesso abbiamo visto a livello proprio percentuale che questi gap vengono chiusi dal bitcoin grande puntata grandi tante cose in questa puntata grazie mille per averci seguito domani analizzeremo meglio i grafici parliamo di bitcoin se non sei sottoscritto sottoscritta a questo canale fallo immediatamente perché abbiamo sempre un sacco di contenuti che ti possono aiutare in questa corsa del bitcoin nelle prossime settimane nei prossimi mesi ciao buona settimana e ci vediamo domani